Quali interessi si celano dietro la scelta del Ministero dell'Ambiente al punto di concedere una nuova sospensione del progetto Pizzone 2 fino al 31 agosto 2024 andando persino in difformità alla legge? Una domanda che si pone il Comitato No Pizzone 2 ritenendo che l'ulteriore proroga sospensiva sia contraria alle norme che disciplinano il procedimento della rotazione d'impatto ambientale per i progetti ricadenti nel PNIC-PNR nell'ambito dei quali i giorni di sospensione massimi previsti sono 120 come recita l'articolo 24 del testo unico dell'ambiente. Insomma, parrebbe proprio che nonostante i pareri contrari espressi dall'ente Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise ma anche da buona parte della politica delle regioni interessate ci sia una sorta di simpatia da parte di qualcuno verso la realizzazione della centrale idroelettrica comportante lavori devastanti per un territorio protetto e di alto valore naturalistico. E allora è vero che siamo la terra dei cachi, incoerenti e bugiardi quando si parla di turismo sostenibile. Ma quale? Quello dei cantieri? O cos'altro? Il Comitato, composto anche da professionalità ingegneristiche e legali, non ci sta e annuncia sacrosanta battaglia nelle sedi opportune, anche impugnando gli atti illegittimi, invitando l'Enel Green Power a ritirare definitivamente il progetto. Patti Vì! Italia e viva!